Allora, torniamo qui. Mettere quindi a referendum questo discorso dei voucher, ma non è l'unico referendum, questa è una cosa che viene a ricordarla, perché non è stata compresa da molti, quando noi l'altra volta abbiamo parlato di mettere mano alla carta dei diritti dei lavoratori, è stata forse perché era la prima volta che se ne parlava, forse perché molti cittadini non l'hanno compresa, però dalle domande che ci sono pervenute le persone proprio non hanno compreso di che cosa si tratta e molti hanno interpretato, si ritorna indietro, il sindacato vuole restaurare una situazione di che si era cristallizzata, allora forse bisogna riprendere alcuni punti e far chiarezza che cosa voi vorreste con questo referendum e cosa vuol dire questa carta dei diritti, perché da che cosa nasce? Parto dalla carta dei diritti che è la proposta fondamentale che stiamo facendo come CGL, è una proposta di legge su cui stiamo raccogliendo le firme, per cui la proposta di legge mira a essere rappresentata alle forze politiche istituzionali e a essere assunta dal Parlamento e la carta dei diritti ha la finalità di estendere diritti e tutele all'intero mondo del lavoro, all'intero mondo del lavoro significa non solo al vecchio mondo tradizionale del lavoro ma soprattutto è anche al mondo della precarietà, al mondo che si è frantumato in appalti, subappalti, cooperative, alle tante forme di rapporto di lavoro precario, estendendo questo principio di estensione dei diritti tuteli anche alle forme di lavoro parasubordinato e anche ad alcune forme di lavoro autonomo laddove sono in monocommittenza. È una logica opposta a quella che secondo noi ha guidato il Jobact. E non solo con il Jobact, però diciamo che il Jobact è stato l'ultimo provvedimento che è intervenuto sul mercato del lavoro. Cosa ha fatto? Ha proposto una omogenizzazione dei trattamenti con una logica di riduzione dei diritti e delle tutele, togliendo diritti e tutele per omogenizzare le condizioni. In realtà non ha fatto neanche quello perché in realtà non ha omogenizzato, in realtà sono stati tolti alcuni diritti e alcune tutele, quello più evidente è l'articolo 18, il superamento del diritto a reintegro in caso di licenziamento illegittimo, a tutti i nuovi assunti. Per cui ha creato un'ulteriore differenziazione. Prima c'era quella fra chi era sopra i 15 dipendenti e chi era sotto, adesso c'è anche questa fra chi era al lavoro, aveva un'occupazione al momento dell'entrata in vigore del Jobact e chi è stato assunto dopo. La logica della carta di diritti è l'opposto. Diritti e tutele vanno garantiti e vanno estesi a tutti quanti e non si tratta solo di ripristinare l'articolo 18. Si tratta di garantire e rendere certi ed esigibili alcuni principi che peraltro sono definiti dalla carta costituzionale, il nostro riferimento alla carta costituzionale, il diritto a un ecocompenso, il diritto alle ferie, il diritto al riposo, il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il diritto alla formazione, sono tutti i diritti enunciati dalla carta costituzionale che soprattutto per questo nuovo mondo che in questi ultimi 10-15 anni si è purtroppo ampliato a dismisura, non sono in realtà garantiti. Con la carta di diritti proponiamo questa estensione, per cui il ripristino di quelli che sono stati tolti, ma un'estensione a tutti in modo da avere una condizione di parità, di omogeneità, di pari dignità nella propria prestazione lavorativa. I referendum sono tre, li ho detti prima, uno riguarda proprio il voucher di cui abbiamo appena parlato, l'altro riguarda il ripristino della responsabilità in solito dei committenti, sono parole che possono sembrare astratte, ma in realtà per chi e sono molti subisce tutti i giorni la preoccupazione, il rischio di perdere il lavoro, perché nella catena degli appalti e dei subappalti, ogni volta che c'è un appalto, un subappalto, non solo si rischia di perdere il lavoro, ma le condizioni di lavoro normative e retributive vengono peggiorate. Noi chiediamo che ci sia, soprattutto nei casi che devono essere garantiti anche istituzionalmente, pensiamo alla retribuzione, pensiamo alla contribuzione previdenziale, pensiamo alle garanzie dal punto di vista assicurativo sugli infortuni sul lavoro, debba esserci, come era tempo fa, e deve essere reintrodotta una responsabilità solidale che coinvolge anche l'azienda committente. L'azienda committente deve farsi carico di verificare a monte se le aziende che prendono in appalto, la commissione di lavoro, l'appalto di lavoro, hanno i requisiti e sono nelle condizioni di garantire la regolarità del rapporto di lavoro e se non sono in condizione, arrivare fino anche alla cessione dell'appalto, insomma alla messa in discussione dell'appalto. L'altro tema riguarda, non vorrei essere ripetitivo, ma appunto il ripristino del diritto a reintrodotta nel posto di lavoro quando c'è un licenziamento illegittimo. Lo dico ripetendo quello che abbiamo detto per tanto tempo quando è stato introdotto il Job Act, perché anche qua c'è stata una mistificazione, non è stato introdotto un contratto a tutele crescenti, un contratto a tutele crescenti ci sarebbe se ci fosse una forma di ingresso che per un anno o due determina meno diritti e poi dopo un anno due o tre si parifica alla condizione di chi lavorava già prima. Così non è, per i nuovi assunti quel diritto viene tolto e si trova nella condizione di essere licenziato senza nessuna giusta causa, senza nessun motivo e non trova mai un momento di parificazione o di tutela che cresce, che viene ripristinata. L'unica cosa crescente è l'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo che cresce a seconda degli anni di prestazione lavorativa. Per cui è un'altra cosa, è una mistificazione anche terminologica, anche di significato delle parole e delle cose che vengono dette. Noi questo lo vogliamo ripristinare, ma non solo perché siamo innamorati del vecchio, siamo conservatori legati a diritti del Novecento, del secolo scorso, ma perché la condizione di essere reintegrati, se c'è un licenziamento senza giusta causa, è la condizione primaria per poter rendere esigibili anche tutti gli altri diritti, altrimenti si pone il lavoratore in una condizione di ricattabilità sempre, anche quando richiede tutti gli altri diritti, retributivi, di sicurezza sul lavoro, di formazione. Questo va ripristinato per ripristinare un equilibrio fra quelle che sono le esigenze dell'impresa e quelle che sono le esigenze di chi presta la propria attività in una condizione di parità e di dignità del lavoro. Questa per noi è l'idea di modernità. Quando si parla di modernità, chi è moderno? È moderno quello che vuole togliere i diritti e creare una sproporzione nell'equilibrio dei poteri o è moderno chi vuole estenderlo anche a tutto quel mondo che fino ad oggi non aveva queste condizioni? Ecco, noi pensiamo che la modernità sia questa estensione. Ecco, c'è Cesare Damiano che è Presidente della Commissione, lavoro appunto, che si occupa di questo. Vi sostiene, visto che lui ha fatto parte del sindacato per molto tempo, oppure no in questa istanza. E quanto è importante anche avere, perché a questo punto vi trovate come parti sociali in una situazione di difficoltà nei confronti del governo che abbiamo visto ha grandi problemi ad aprire alle parti sociali. Damiano svolge una funzione di rappresentanza politica e di ruolo istituzionale, lo fa nella sua autonomia, nella sua funzione, con le dinamiche di discussione che ci sono in Parlamento, ma non solo in Parlamento, nel suo caso anche all'interno del Partito Democratico, è una cosa che riguarda lui. Per quanto riguarda noi, certo siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono, siamo consapevoli che c'è un quadro politico istituzionale che non ascolta molto e che non è molto attento ai temi del lavoro, della dignità del lavoro, della centralità del lavoro. È proprio per questo che abbiamo messo in campo questa proposta, quella della Carta dei Diritti e quella dei referendum, che sono su questioni specifiche, ma sono a sostegno anche della Carta dei Diritti, che è la finalità principale. I referendum abrogativi che scopo hanno? Hanno lo scopo di far pressione sul quadro politico istituzionale, sul Parlamento, perché vengono recepite quelle modifiche, se il Parlamento interviene modificando nel senso e nello spirito dei quesiti referendari, non si fanno neanche. Quando avrebbero fatti questi referendum? Dovrebbe essere in primavera, però qua nessuno ha la sfera di cristallo, perché dipende se dovessero intervenire elezioni, se il governo continua, c'è il referendum costituzionale di mezzo ottobre, però nei tempi ad oggi, rispetto ai tempi di raccolta delle firme, di deposito delle firme, i referendum dovrebbero essere svolti nella prossima primavera. La raccolta delle firme sta andando bene, abbiamo l'obiettivo di raccogliere tantissime firme, perché quello è il nostro modo di svolgere la nostra funzione in autonomia dal quadro politico e però di rivendicare con un consenso e un grado di partecipazione alla nostra proposta di dimensioni grandi, la pressione che possiamo esercitare sul quadro politico istituzionale. A proposito di pressione sul quadro politico, ci sono diversi ambiti nella vostra organizzazione sindacale che si stanno muovendo con delle manifestazioni anche significative, continuamente, perché anche ci sono altre, ne abbiamo viste. Cosa sta succedendo? Quali sono i comparti più caldi? Si parla del rinnovo dei contratti di lavoro che sono fermi là da un bel po' di tempo, anche il pubblico impiego, però non solo. Quali sono i settori un po' più... Si, diciamo che oltre alla proposta sulla carta dei diritti e referendum con i quesiti abrogativi, le altre due priorità dell'azione sindacale che ci siamo dati, in questo caso sono priorità che abbiamo assunto unitariamente anche con Cisle Will, sono il tema della contrattazione e il tema della previdenza, cioè della riforma della modifica radicale, diciamo, della legge Fornero, insomma, del sistema previdenziale per com'è adesso. Parto dalla contrattazione perché è un tema molto attuale, lì la situazione non è positiva, ci sono milioni di lavoratori da anni in attesa di un rinnovo contrattuale, c'è tutto il comparto del pubblico impiego che è dal 2009 che non rinnova i contratti, anche quest'anno in legge di stabilità non sono state destinate le risorse necessarie a fare un rinnovo contrattuale dignitoso. Ma forse neanche prossimo anno, perché visti o si vuol dare una parte o dall'altra, non è che ce ne sia per tutti, i margini sono stretti. Continuando in un'opera di svalorizzazione e demonizzazione del lavoro pubblico che è inaccettabile, perché ci sono i furbetti ma solo una minoranza e vanno perseguiti, ma la maggior parte dei lavoratori che operano nel pubblico impiego sono lavoratori che impiegano con professionalità, con impegno, con passione, spesso in condizioni di difficoltà e ultimamente anche con gravi carenze di organico. Sono lavoratori che da anni non vedono riconosciuto il loro diritto a un adeguamento della retribuzione. E poi c'è tutta la parte dei settori privati, intere categorie, intere settori produttivi che fanno fatica a rinnovare i contratti. Con una confindustria che sta assumendo un'impostazione, una posizione sempre più spinta a mettere in discussione il ruolo e la funzione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Infatti, che è un po' in parallelo, in modo diverso, quello che sta succedendo in Francia, no? In modo diverso. Beh, in modo abbastanza simile e analogo, direi, perché anche l'intervento, in questo caso legislativo del governo francese, va nella direzione di un superamento della contrattazione nazionale e di spingere e favorire la contrattazione aziendale. Si badi bene che noi non siamo contro la contrattazione di secondo livello e aziendale, anzi vogliamo estenderla e diffonderla, però bisogna partire dalla realtà. Che alcuni diritti fondamentali vengono riconosciti, alcune linee fondamentali. La realtà in Italia è che il tessuto produttivo è fatto per l'80%, 90% forse, di aziende piccole, piccolissime, dove non solo non c'è contrattazione di secondo livello e contrattazione aziendale, ma neanche rappresentanza sindacale. Ecco, allora il contratto collettivo nazionale ha una funzione di solidarietà non astratta, ma come unico strumento che può garantire certezza retributiva e certezza normativa. Oltre, lo aggiungo perché spesso ci si dimentica, anche a sancire un principio di omogeneità della prestazione. A parità di prestazione, oraria, professionale, inquadramentale, deve esserci una parità di retribuzione. È un principio raggiunto, una conquista raggiunta molti anni fa e che vogliamo mantenere. Poi diciamo che la contrattazione aziendale deve servire a contrattare condizioni specifiche dell'organizzazione del lavoro e anche quote salariali legate alla produttività. Però stando attenti perché la spinta e il disegno di una parte dell'imprenditoria in realtà è mascherata dall'idea di dire rafforziamo la contrattazione collettiva, ma in realtà mira verso una contrattazione individuale e nella contrattazione individuale c'è chi può avere un beneficio, ma ci sono molti che possono essere tagliati fuori. Gli stessi interventi di detassazione delle quote salariali di produttività, se sono riferite ad accordi aziendali frutto della contrattazione e legate alla definizione e al raggiungimento di obiettivi di produttività concordati e definiti, va bene, era una richiesta che come sindacato facevamo. Se vengono estesi, come con l'ultimo provvedimento è stato fatto, in termini non di riduzione dell'aliquota fiscale, ma in termini di detassazione totale, sia contributiva sia fiscale, quello che viene definito welfare integrativo è un aspetto molto rischioso e molto pericoloso perché in realtà dentro questi pacchetti di welfare integrativo che possono essere detassati anche quando non sono frutto di un accordo sindacale, di un accordo contrattuale, ci si mette un po' di tutto, dai buoni palestra ai buoni benzina, quello non è welfare integrativo, è chiaro che il lavoratore può pensare nell'immediato di avere un vantaggio, ma tutte quelle forme lì sono forme completamente detassate sul piano contributivo e fiscale, questo vuol dire che se si diffondono e se si ampliano c'è un danno sul sistema previdenziale pubblico e anche sulle entrate del bilancio pubblico, delle entrate pubbliche, però volevo richiamare se posso, sono stato sollecitato rispetto alla situazione francese, per dire che anche qua in Italia c'è una forte mobilitazione di tutte le categorie, prima hanno scioperato quelli del commercio, prima ancora quelli dell'agroindustria, oggi c'è uno sciopero, scusate domani c'è uno sciopero dell'igiene ambientale, la settimana scorsa c'è stato lo sciopero in varie regioni, fra cui il Veneto dei metallmeccanici, è già il secondo tarzo, proprio perché non si riesce a sbloccare il rinnovo dei contratti, perché il problema che viene posto alle controparti è quello di non riconoscere aumenti retributivi sul piano del contratto collettivo nazionale, poi ci sono anche tanti altri elementi che non ho tempo di approfondire, e le iniziative e le mobilitazioni sono state fatte, i scioperi sono stati fatti, con un buon grado di partecipazione, anche le manifestazioni, devo dire che rispetto alla Francia, forse qua in Italia, forse non è caso di dirlo qua e nella trasmissione, insomma complessivamente nel panorama dei mass media c'è molta poca attenzione e molto poco spazio e visibilità che viene dato a queste forme, a queste iniziative sindacali, a questa mobilitazione, molto più ad altre cose, ma soprattutto nel panorama nazionale c'è un po' una forma, non dico di oscuramento, ma viene messa un po' in secondo ordine, rispetto a quanta visibilità invece si dà, si dà giustamente rispetto a quello che è successo in Francia, c'è una diversità storica con la Francia, paradossalmente in Italia il sindacato è molto più forte, molto più rappresentativo e costruisce le sue iniziative, le sue mobilitazioni, io penso che sulla questione dei contratti, dei rinnovi dei contratti, se le cose dovessero proseguire così, cioè con una difficoltà a rinnovarli, a trovare uno sbocco e un riconoscimento legittimo alle richieste delle piattaforme, come sindacato dovremmo pensare a un'iniziativa di carattere generale, non più categoria per categoria, settore per settore, ma di carattere generale anche sul tema della contrattazione. In Francia invece c'è un sindacato meno rappresentativo in termini di iscritti, in termini di rappresentanza, però c'è una cultura dei diritti che forse è più di massa nel complesso della cittadinanza, insomma, quando vengono messe in discussione la mobilitazione è una mobilitazione spesso di massa, però insomma noi cercheremo, se purtroppo lo rendono necessario, di aumentare la nostra capacità di mobilitazione di conflitto anche qua in Italia. Perfetto, dobbiamo interrompere, abbiamo una pubblicità, poi dobbiamo parlare anche della sanità, tra poco.